I primi 22 anni di vita li ho vissuti in Italia, a Milano. Ero uno scout e ho giocato a pallavolo, sino alla Serie A. Vengo da una famiglia normalissima, sono il primo che è riuscito a laurearsi. I miei nonni hanno fatto tanti sacrifici e combattuto entrambe le guerre, i miei genitori hanno risparmiato e io sono il primo che è riuscito ad andare all'università, in Bocconi. Un 5-6 anni fa, 35 anni, ho avuto una chance di creare la mia piccola media azienda. Noi siamo 10 dipendenti, gestiamo un miliardo di dollari, più o meno un po' di più di un miliardo di dollari. Chi sono i nostri gestitori? Chi sono i nostri gestitori?